Sempre tornando ad alcune delle esperienze in Italia, c'è questa esperienza dei book in progress, dove i libri molto più piccoli, quelli tradizionali, sono stati scritti dai docenti, ne sono state stampate 40.000 coppie e sono state in un formato wiki, per cui c'è un po' di carta, ma c'è anche molto in linea. Il libro nasce con la classe, ebbene questa operazione qua riduce il costo a poco più di 30 euro, 30, 35 euro. Grazie a tutti.